Parliamo di amministratori di sostegno, magari una figura non molto conosciuta eppure molto importante quando si parla di persone fragili. Sì, dici bene, nel senso che questa riflessione e quindi questa possibilità che mi dai di rilasciare questa intervista nasce dal fatto di esigenze contingenti, ci sono persone che magari hanno un contesto familiare poco attivo, delle relazioni parentali difficoltose e quindi si impone, si propone alla persona che si trova in queste condizioni di fragilità o per condizioni fisico-psichiche la figura della ministra del sostegno, che è una persona che in condizioni di normalità, di disponibilità, di un po' di tempo, di una capacità relazionale e disponibilità morale verso le persone più fragili possono affiancarsi nei compiti, in alcuni compiti che queste persone fanno difficoltà a portare avanti, quindi nella gestione dei beni soprattutto e quindi di quelle pratiche magari sanitarie piuttosto che burocratiche che appunto le persone che si trovano in stati di difficoltà fanno fatica ad espletare, quindi noi come Comuni di Leffe, ma credo che sia un'intervista che possa così sollecitare un po' tutte le persone in tutti i comuni della nostra valle, abbiamo bisogno di queste persone, di persone che possano fungere da amministratore di sostegno, quindi di persone che vivono una condizione più fortunata, diciamo così, di persone che invece si trovano in stati di fragilità e che si mettono a disposizione in modo volontario per supportare persone fragili che hanno bisogno appunto di pratiche, che hanno bisogno direi anche di un supporto morale, perché è chiaro che se una persona non ha una relazione familiare solida ha bisogno anche di un supporto morale, credo che questo tipo di volontariato possa restare spesso più nascosto di altre forme di volontariato legato al mondo dello sport, della cultura, dell'associazionismo. È un volontariato sicuramente più impegnativo, se vogliamo dire così, da un punto di vista morale, ma che può dare anche molto, quindi l'appello che faccio è quello che se ci fossero delle persone interessate, disponibili che abbiano voglia di dare una mano a queste persone fragili, possono rivolgersi direttamente al comune, a me o all'assistente sociale e così noi poi abbiamo la possibilità di fare dei piccoli momenti di formazione, ma che sono necessari proprio per andare a supportare queste persone. Quindi l'appello è che le persone che si vogliano rendere disponibili in questo senso si facciano avanti all'EF, ma anche, credo, negli altri comuni e ringraziamento già da ora a chi volesse mettersi a disposizione.